Colpo di scena, alle 17 circa del pomeriggio del terzo giorno di discussione della riforma degli enti locali ho avuto il tempo di controllare se ci fosse la scheda tecnica finanziaria obbligatoria per tutti i disegni di legge e, incredibile, non c'era, non l'hanno presentata. E allora ho dovuto interrompere la sezione, sì, l'aula, e ho chiesto di verificare come mai non fosse stata presentata. In breve tutto è andato in tilt, sono ancora fermi, sono lì che si aspettano di trovare qualche soluzione e fondamentalmente tutta la posizione ha preso e se ne è andata.